Sì, è stata una bella partita, non una bella partita, però è stata una vittoria importante, un derby si sa, a volte vengono fuori delle partite non belle, però per noi era importante vincere, ci siamo riusciti e quindi siamo contenti. Ma adesso per fare il bilancio aspettiamo fine, fine dell'anno, mancano due partite in cui dobbiamo fare il meglio possibile, abbiamo la possibilità di far 6 punti e poi vediamo dove siamo arrivati. Una squadra come il Milan è obbligata a pensare di vincere tutte le partite, siamo partiti molto male, adesso stiamo facendo un po' meglio, quindi dobbiamo solamente pensare a vincere queste due partite e poi vediamo dove siamo arrivati e dipende anche dalle altre, cosa faranno, cosa non faranno, ci sono tanti sconti diretti, quindi aspettiamo queste due partite. Ma no, sai, ripeto, noi dobbiamo guardare solo noi stessi, siamo in ritardo, abbiamo queste due partite e speriamo di far 6 punti. Adesso, ripeto, siamo alla fine, mancano due partite, abbiamo l'obbligo di fare il meglio possibile, io cerco sempre di farmi trovare pronto quando gioco, quindi 30-45-90 e spero di dare sempre una mano alla squadra.